Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot. Ben ritrovati. Eccoci pronti per un'altra estrazione in compagnia di Eurojackpot. Avete mai sentito parlare di ecoturismo? Negli ultimi decenni l'interesse per lo sviluppo del viaggio responsabile è cresciuto in tutto il mondo. In particolare la Lituania è ai primi posti in questo ambito, promuovendo l'integrità ambientale, il patrimonio storico e culturale e le tradizioni locali invece degli standard offerti dal turismo di massa. I paesaggi lituani sono una meta perfetta per gli amanti della natura. Una grande attenzione per l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici e per la promozione della gastronomia e delle tradizioni locali. Dopo questo piccolo excursus è il momento di dedicarci al nostro jackpot. Questa sera vale 78 milioni di euro. L'estrazione sta per iniziare. Colleghiamoci ora con la sala delle urne. Le 50 sfere numerate sono in movimento. Quale sarà il primo numero di questa sera? L'estrazione ha inizio. La nuova combinazione vincente di Eurojackpot viene svelata ora. Il primo numero è 6. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo numero estratto è il numero 4. Siamo ora al terzo estratto. Ed è il numero 12. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo. È il numero 38. Siamo arrivati alla quinta sfera estratta, che potrebbe assegnare vincite milionarie se associata ai due euronumeri. Il quinto numero estratto è 31. È giunto il momento dell'estrazione dei due euronumeri, che potrebbero assegnare il jackpot in palio questa sera. Il primo euronumero di oggi è il numero 2. Il secondo euronumero completa la combinazione di Eurojackpot di questa sera. Il secondo euronumero è 12. Controlliamo ora la combinazione vincente. 4 6 12 31 38 I due euronumeri sono 2 e 12 Vediamo insieme i risultati di questo concorso e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato realizzato il 5 più 2, ma sono state numerosissime le vincite sia in Italia che in Europa. Molti giocatori sono stati premiati con vincite straordinarie. Se non è toccato a voi, non perdete la speranza. La prossima estrazione sarà martedì. Continuate a seguire i canali Eurojackpot per sapere dove sono state realizzate le vincite. La caccia al jackpot milionario prosegue martedì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a 88 milioni di euro. Per aggiudicarsi la cifra stellare del nostro jackpot bastano soli 2 euro. Siete pronti a giocare i vostri numeri preferiti? Noi vi ringraziamo per averci seguiti e vi aspettiamo martedì prossimo con una nuova estrazione. A prestissimo! Noi vi ringraziamo per averci seguito.